Parlare del bilancio in un momento particolare come questo non è cosa semplice. Bisogna ricordare, bisogna dirlo, che da tempo lo Stato italiano è in grosse difficoltà e di conseguenza i comuni. Non tutti sanno che queste difficoltà che lo Stato ha nel suo grembo vengono poi proiettate nei piccoli comuni e nei grandi comuni del territorio italiano. Quindi andare avanti, cercare di portare avanti tutta una serie di servizi, cercare di mantenere sempre il Paese bene o male in maniera comunque tranquilla e cercare di non far pesare molto questo grande problema economico che attanaglia, ripeto, l'Italia da molto tempo è cosa ardua. Ma noi cerchiamo comunque di farlo, cerchiamo di farlo in tanti modi. Innanzitutto abbiamo realizzato un bilancio essenziale e in alcuni punti con poche piccole appostamenti economici abbiamo anche cercato di lanciare un messaggio, un messaggio di positività, di speranza. Diamo comunque assistenza nei limiti delle possibilità di carattere economico a tutti questi ragazzi che realizzano comunque manifestazioni. Diamo assistenza a delle iniziative particolari come possa essere l'incentivazione della bice elettrica. Abbiamo dato un piccolo contributo, tra l'altro di una forte polemica anche per quanto riguarda la famosa gita per anziani che per tre anni non è stata fatta presso da questa amministrazione. Quest'anno una piccola parte di quell'appostamento economico è stato indirizzato in tal senso per dare anche di nuovo, dopo tre anni di assenza, anche lì, un discorso un po' più che non ci siamo dimenticati degli anziani. paradossale però far nascere una polemica del genere contro gli anziani e poi sempre nelle sedute del Consiglio Comunale presentare una mozione a favore del centro sociale anziani. Cioè fare un centro sociale più grande quando già c'è, quindi delle due l'una bisogna spendere per gli anziani o no? Allora ecco, fare demagogia o cercare il populismo nelle cose semplici, dire che per il sociale e quindi l'amministrazione contro il sociale è veramente cosa poco opportuna in un momento particolare come questo. In un momento particolare come questo bisogna innanzitutto lanciare messaggi positivi, realizzare un bilancio essenziale, ma allo stesso tempo cercare di creare una solidarietà sociale, lavorare per quanto mi riguarda in silenzio, senza fare troppe polemiche, senza fare ecco, senza fare ecco, io sto vedendo ultimamente anche delle annusazioni che escono su social network del tutto lontane dalla verità, o perlomeno parte della verità, le verità vanno sempre ascoltate per intero, ma ovviamente anche il ruolo di chi fa l'opposizione è questo, è giusto che loro facciano il loro ruolo, noi, almeno io, preferisco lavorare in silenzio, preferisco stare sui problemi e poi un giorno se tutto questo lavoro sarà visto e valutato dalle persone, ben venga, altrimenti personalmente mi resterà la soddisfazione personale di aver lavorato e di essermi impegnato il più possibile per il mio paese.